L'ultimo episodio Da cos'è? Ha un polmone perforato, non respira Va meglio? E adesso? I treni viaggiano sottoterra fino alla città vecchia Useremo una delle gallerie per andarcene da qui Mi porterai sempre in braccio, dolcezza Questa era l'intenzione, ma ora che ti senti meglio La porta! Sergente, è meglio se vieni a vedere Questo significa che siamo fregati, vero? Non ancora Aspettate qui Prenderemo quel veicolo Sta atterrando, è la nostra occasione Mickey, seguimi So pilotare un pelican, sergente, ma un phantom Sono passati anni dall'ultima simulazione Allora vediamo cosa ricordi, soldato Muoviti Secondo te Urra! Sudah! Allora vediamo! Allora vediamo! Il primo è la proposta Grazie a tutti Grazie a tutti Cambio punizioni Vai Mickey, sali subito e uccidi i piloti Io ci provo Cambio sicura Comandi di volo nella norma Almeno, credo Bene, siamo pronti a partire Credo Ok, salgo su un basci Tu vai a prendere Dacce e Romeo Subito Cammina sicura Comandi di volo nella norma Almeno, credo Bene, siamo pronti a partire Credo Subito Un altro in meno Buongiorno 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 Fermati Romeo Alle torrenti E' lì che siamo diretti Distruggeteli Attraverso la galleria Sergente Sergente Prendi il comando Attenzione ai gomiti Dovremmo stringersi un po' Guardate che Guardate che Guardate che Vedrà una dana di quei morti Lasciate fare Lasciate fare Guardate con tutto Anzio Non 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 舌 Non 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 Anzi Non 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 Fellow Mi Non Non Rinterruttore, sergente. Posiziono un segnalatore. Booyah! La porta è aperta. Vado prima io. Ok, ricevuto. Ti seguiamo. La porta è aperta. 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 Sembra senza energia. Proseguirò a piedi. Forse troverò una soluzione nella galleria. Dai, sergente. Rimo d'occhio la porta coprendo di le spalle. La porta è aperta. La porta è aperta. Controlla la porta è aperta. Controlla in fondo alla galleria. Forse c'è un generatore ausiliario. e la porta è aperta. La porta è aperta. Grazie a tutti. 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 E ora so dove trovarla.